Il 2017 in Cina comincia allo stesso modo in cui era finito il 2016. Nelle grandi città lo smog taglia il respiro. L'area di Pechino Tianjin è la più colpita insieme ad altre 60 località del nord. L'inquinamento colpisce le zone a forte concentrazione di fabbriche. Molte centrali elettriche poi funzionano tuttora a carbone e sono dunque altamente inquinanti. Le autorità reagiscono ordinando lo stop della circolazione dei camion e la riduzione della produzione, misure che fanno abbassare un po' le emissioni nocive, ma non si tratta ovviamente di provvedimenti con effetti a lungo termine. La concentrazione media di particelle nell'area è attualmente di 100 microgrammi per metro cubo. Il livello massimo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è di 10 microgrammi per metro cubo.